Ciao ragazzi, il mio prossimo video sarà un Q&A, ovvero un question and answers, e in questo video potrete chiedermi delle domande alle quali risponderò in quel video. Potete lasciare le vostre domande nei commenti e potete chiedermi qualsiasi cosa, vedrò di rispondere a più persone possibili. Rendete anche le domande divertenti se volete e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! PS, buon Halloween, in ritardo!